nuova sigla fumetti fatti papà rapapà ciao ragazzi bentornati sul canale di fumetti fatti sono angelo masur il futuro e mi sa che è proprio il caso di dire finalmente buon anniversario e infatti stamattina sono attive finalmente le batch del dual fest il fantastico del fest che tanto stavamo aspettando interessante ragazzi interessante perché hanno fatto qualche cosa di veramente veramente bello siamo ritornati agli albori il il trio di salmon scontate costa 30 stone ragazzi quindi faremo praticamente per ogni per ogni batch sia quella di gogetta che di vegeto possiamo fare il primo giro completo al costo di 90 stone più una quarta gratuita e portiamo a casa 40 pg c'è bello finalmente era ora che si ritornasse a questa a questa meccanica sono contento sono contento ma oggi cioè in questo video non non pulleremo pulleremo in seconda sede questo video a parte farvi capire come funziona questo chiaramente il primo giro il secondo giro poi costano 50 l'importante sapere comunque abbiamo sempre l' ssr garantito fantastico ragazzi molto molto bello poi per ogni molti che faremo riceveremo dei ticket e i ticket si possono spendere rispettivamente nelle loro due batch e se non ho capito male anche le molti dei ticket dovrebbero garantire l' ssr anche se non ho non ho avuto modo di constatare se questa cosa è veritiera o meno quindi nel caso in cui si riescono a fare 10 ticket di uno dell'altro teoricamente forse la multi anche anche quella dei ticket dovrebbe garantirvi la gssr purtroppo non vi so dire se 100 per cento garantito questa cosa dovrei dovrei provare in prima persona ma comunque siamo qua ragazzi per più che altro dirvi come si prende la terza sfera di polunga avrei voluto farvi vedere in prima persona come si prendeva ma l'ho presa non neanche cioè l'ho presa non volendo perché praticamente per prendere la terza sfera di polunga a differenza del jump che bisognava fare una cosa stupidissima ovvero comprare un pc con dal babashop che era cui il nemico il cell lo scagnozzo di freezer amico nemico di vegeta bisognava comprarlo dal babashop e utilizzarlo ok nel global semplicemente bisogna utilizzare gohan kid in team e fare uno stage qualunque infatti a me è capitato totalmente a caso mentre stavo allenando appunto gohan e lo stavo provando con il team str che vedete qua non so se è necessario averlo già a tour o se va bene anche ssr comunque nel caso in cui voi fate un tentativo per entrambi cioè fate un tentativo che mi sapere se va bene anche ssr io lo stavo già già lo sto provando così lo sto un attimino allenando carino bello gohan ragazzi bisogna assolutamente farlo full abiti poi parlando sempre di bg free to play stamattina abbiamo ricevuto nei gift il goku fisico alcuni di voi mi avevano chiesto come si prendesse il goku fisico praticamente basta consumare tanta stamina fa parte proprio della campagna e se ne verrà e se ne riceveranno proprio delle copie in in login come come premio sono delle copie limitate quindi il mio consiglio è quando poi lo allenate e lo utilizzate le prime copie che prendete datele già in ability poi man mano che ve ne vengono date altre lo aumentate la s a accettiamo così lo vediamo dal video ok diamo subito nel box eccolo qua bellissimo tra l'altro con la campagna del consumo della stamina man mano prendiamo un sacco di oggetti tra cui anche le medaglie per portarlo al tour è un sacco di orb fisica quindi volendo se si potrebbe portare un pochino su di abiti ma fondamentalmente approfittiamo delle orb fisiche che ci vengono date per maxarci qualcun altro va beh ragazzi io direi di salutarci qua se qualcosa non è chiaro fatelo sapere con un commento ci vediamo invece più tardi con il video con il video pool forse forse io sapete io non mi fa impazzire fare video pool però mi sa che sto giro almeno ci proviamo